Per situazioni con esclusione di gruppo, l'uso di una cassetta di sicurezza può far risparmiare tempo e denaro e può persino essere un'alternativa più sicura delle esclusioni individuali. Normalmente il supervisore fisserà un unico lucchetto di sicurezza a ciascun punto di isolamento d'energia che necessita di esclusione. Quindi riporrà le chiavi nella cassetta di sicurezza. Ciascun addetta autorizzato poi inserirà la propria serratura di sicurezza nella cassetta. Dopo aver terminato le loro attività di manutenzione, gli addetti potranno rimuovere la loro serratura in sicurezza. Il supervisore potrà sbloccare i punti di isolamento d'energia solo dopo che l'ultimo addetto avrà completato il suo lavoro e rimosso la sua serratura personale dalla cassetta. Ciò assicura che gli addetti siano fuori dalla zona pericolosa prima che venga ripristinata l'alimentazione e si riavvii l'impianto.